Sì, velocemente, scalzate un attimo, allora zoom un pochino, ok ecco un pochino più così, allora ricordami bene il nome, Emiliano Marzini, allora siamo con il pugile, il campione europeo, prova, prova, perché c'è il filo che può... Prova? Ok, ok, benissimo, allora facciamoci un po' più a destra, Marzini, Emiliano. Allora siamo con Emiliano Marzini, buonasera Emiliano. Buonasera a tutti. Come vedete, ti vediamo già concentrato per l'incontro del 24. Sì, già sto in preparazione, diciamo che sto agli ultimi ruotaggi per completare la mia preparazione, combatterò il 24 gennaio a Bergamo, ci sarà la diretta Italia 1, per la quarta volta difenderò il titolo europeo e sarà un bellissimo spettacolo, vedetelo, perché sarà un bel match. Che categoria combatti? Pesi leggeri. Pesi leggeri. Siamo al premio 7 colli, un premio di fair play a ridosso del derby Roma-Lazio, tu chi tifi? Io il cuore è giallorosso. Giallorosso, tu sei di Roma? Sì, sì, scivita vecchia ma provincia di Roma. Scivita vecchia e provincia di Roma. Quindi il 24, ribadiamo di nuovo l'orario, così ti seguiamo, facciamo il tifo? Il 24 a Bergamo, diretta Italia 1, 23.45. 23.45, gli ultimi incontri come li hai vinti? Due per K.O. e l'ultimo i due punti, per questa è la quarta volta che difendo l'europeo. Benissimo, in bocca al lupo, come si dice? Crepi il lupo. Crepi il lupo, vai, alla grande, ciao. Questa è la quarta volta che vediamo. Grazie.